Musica Bentornati ad una nuova puntata di Conto su di te, il nostro contenitore di informazione finanziaria e economica in compagnia di UbiBanca. Vi portiamo a conoscere temi anche molto concreti, molto importanti quando si parla di risparmio, un tema assolutamente sentitissimo da tutti coloro che ci stanno ascoltando. Diamo il benvenuto ad Ugo Borgheresi, responsabile del supporto Welfare. Ecco, una parola sicuramente importante che racchiude tanti concetti, una parola che sentiamo spesso nel nostro quotidiano, la leggiamo nei giornali, nel web, ma intanto partiamo da capire che cosa significa Welfare. Sì, buonasera innanzitutto a tutti. Si definisce Welfare aziendale quell'insieme di beni, servizi e prestazioni che un'azienda può mettere a disposizione del proprio lavoratore e che ne migliorano la qualità della vita sia professionale che privata, ne sostengono il reddito, beni e servizi che possono essere a disposizione anche del lavoratore o dei suoi familiari. Ecco, ma proviamo a scendere un po' in alcuni esempi così chi ci ascolta lo capisce in maniera più concreta. Molto bene. Pensi ad esempio a tutte quelle persone che lavorano e che hanno figli in famiglia dall'età prescolare fino all'università. Ebbene, i beni e servizi che l'azienda può mettere a disposizione del lavoratore sono la possibilità di rimborsare le spese scolastiche, l'iscrizione alla rete dell'asilo nido, della scuola, i libri scolastici, le vacanze estive, i campus, le gite scolastiche. Lei pensi in questo momento che chiudono le scuole c'è un problema per le famiglie di poter anche sistemare i figli nei campus estivi? Tra l'altro è un problema forse solo italiano o poco più perché siamo rimasti un po' indietro rispetto alla conciliazione dei campi di famiglia-lavoro. Esatto, ma infatti welfare è una facilitazione, una particolare attenzione del datore di lavoro verso condizioni di conciliazione migliori di vita e lavoro da parte del proprio lavoratore. Che poi immagino si ripercuotono anche nella produttività. Assolutamente sì, ma consideri gli esempi poi hanno uno spettro molto ampio. È possibile ottenere rimborsi per chi ha delle spese, per chi convive nell'ambito familiare con delle situazioni di non autosufficienza dei genitori, dei suoceri e quant'altro. È possibile avere un contributo al rimborso di mutui finanziamenti e piccoli prestiti, il giovane che entra nel mondo del lavoro e si compra la macchina direttamente al concessionario. È possibile avere buoni acquisto di spese, di grande diffusione, di grande distribuzione. E poi c'è una particolare dedica all'area benessere e tempo libero. Quindi mi riferisco ai viaggi, ai corsi di formazione piuttosto che alla palestra per te stesso o per i tuoi familiari. Ultimo ma non ultimo, bisogni sociali sempre più emergenti, si può utilizzare il premio di produzione anche per forme di previdenza integrativa o forme di assistenza sanitaria. Quindi delle misure molto importanti che tutelano meglio una famiglia sul piano previdenziale e sul piano assistenziale. Temi che il welfare pubblico non sempre non più riesce a rispondere adeguatamente. Ecco, come si possono, tutti questi esempi che lei ci ha appena fatto, come si possono declinare? Molto bene, allora il welfare può essere portato in azienda o attraverso i rinnovi di contratti collettivi nazionali. Le faccio un esempio, nel 2017 e nel 2018 i rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei metalmeccanici, ad esempio, o del settore orafo argentiero che ci riguarda più da vicino, è stato interessato dall'introduzione di misure di welfare, seppur minimali, perché si parla nell'un caso di 150-200 euro per quest'anno e per gli orafo argentieri 150 euro per quest'anno, ma che però già per emanazione di un accordo nazionale portano in via sperimentale il welfare in azienda. Un altro ambito, pensi a tutte quelle aziende strutturate che hanno organizzazioni sindacali al proprio interno. Ecco, in questi casi, se vi è un premio di produzione, in accordo con le organizzazioni sindacali è possibile trovare proprio un welfareizzare questi premi, ovvero dare la possibilità ai dipendenti, invece di farselo monetizzare in busta paga con degli impatti fiscali molto importanti, poterne beneficiare in beni e servizi. Ultimo, ma non ultimo, è possibile portare in azienda con una liberalità che di sua spontanea volontà il datore di lavoro vuole reagare a favore dei propri dipendenti. Quindi, attraverso l'introduzione di un regolamento aziendale, un'azienda anche non sindacalizzata, anche più piccola, può portare ai propri dipendenti dei piani premiali in beni e servizi welfare. Ecco, cerchiamo di capire allora se esistono benefici fiscali, quali sono, e soprattutto come questi impattano sulle aziende e sui lavoratori. Certo, allora, l'assunto di base è che questi beni e servizi, pur essendo erogati dal datore di lavoro in favore dei lavoratori, non sono considerati reddito imponibile e come tali, quindi, non soggiacciono a imposte contributive e imposte dirette. Le faccio un esempio, se oggi un'azienda deve pagare un premio da 1000 euro al suo dipendente, ordinariamente quel premio da 1000 euro costa 1300 euro all'azienda, perché su di esso gravano i contributi IMSS nella misura del 29,7%. Quello stesso premio di 1000 euro che all'azienda costa 1300, atterra in busta paga al dipendente all'intorno di 650 euro. Ovvero, su quel premio da 1000 euro vi è i contributi IMSS a carico del lavoratore del 9,5% più l'aliquota IRPEF, tempo per tempo vigente. Ecco che un premio da 1000 euro che l'azienda costa 1300 arriva con un cugno fiscale di oltre il 50%. Cosa ha previsto la legge di stabilità del 2016 e ha trovato ulteriori vigore nel 2017 e nel 2018? Il fatto che il premio, quello stesso premio, quando è erogato in beni e servizi, sostanzialmente il premio di 1000 euro all'azienda costa 1000 euro e comporta una capacità di spesa del dipendente di 1000 euro. Si azzera magicamente il cugno fiscale. Quindi, insomma, però devono essere spesi in questi settori che lei prima ricordava. È vero, però che sono settori ormai che faccio fatica a non individuare come caratteristici di qualunque tipo di popolazione. Nel senso, sia che tu sia un single, sia che tu sia una persona che ha figli in età scolare, sia che tu sia una persona che nell'ambito della famiglia ha persone non atto sufficienti, credo faccio fatica a non trovare un ambito di fruibilità che la normativa nel frattempo ha introdotto. Perché qui c'è stata una doppia azione dal punto di vista normativo. Da un lato si è incentivato con delle norme il welfare sul piano fiscale, dall'altro si è ampliato in maniera molto importante il novero dei beni e servizi che i dipendenti possono utilizzare. Anche se ci tengo a dire una cosa, il welfare possiamo quasi dire che in questa fase in Italia ha una fase di rinnovata giovinezza, no? In realtà però il welfare è una filosofia aziendale, è un qualcosa che è sempre esistito anche in tempi non di agevolazione fiscale. Mi piace ricordare sempre a questo proposito l'ingegnere Olivetti, quando a fine anni 40 e primi anni 50, Uno su tutti diciamo, no? Uno su tutti, e non c'erano certo leggi di agevolazione fiscale, ma c'era una particolare sensibilità dell'imprenditore che istituì un asilo di fabbrica per i bimbi da sei mesi fino a sei anni, un medico, un infermiere di fabbrica, aveva creato dei meccanismi con le navette che potevano portare i dipendenti da e verso Ivrea, aveva creato la colonia estiva e la colonia invernale, aveva dato un contributo nei mesi invernali ai dipendenti come legna da ardere perché non tutti avevano il riscaldamento. Cosa voglio dire con questo? Cioè fare welfare al di là dell'incentivo fiscale è una particolare attenzione del mondo dei datori di lavoro verso i propri dipendenti. E questo ce lo dicono i dati statistici, soprattutto di oltre Europa o di chi in Italia ha già intrapreso dei cammini di welfare, restituisce al di là del beneficio fiscale una serie di vantaggi in termini di clima aziendale, di miglioramento della produttività, di immagine aziendale, di anche, devo dire, redemption, cioè il grado di fedeltà dei dipendenti presso la propria azienda o addirittura un fattore di attrazione verso la propria azienda da parte di altri dipendenti. Quindi un circolo virtuoso particolarmente positivo. Io ho capito, diciamo, in questo cammino, questa è la seconda stagione di Conto su di te, che Ubi vuole fare banca per bene, questa è una cosa che viene sempre un po' ricordata. Quindi le faccio una domanda quasi pleonastica però, perché una banca come Ubi sceglie, insomma, di parlare di welfare? Devo dire, allora, intanto noi siamo stati, lo dico con orgoglio, la prima banca che in Italia ha portato il welfare all'attenzione del mondo delle piccole e medie imprese. Lei consideri che il welfare in Italia era già conosciuto e utilizzato da aziende molto grandi e molto ben strutturate. UbiBanca, che è una banca ormai grande, la terza banca italiana per capitalizzazione di borsa, però è il risultato di tante piccole banche che non hanno mai perso, anche nell'unione in UbiBanca, la propria vocazione territoriale e la propria attenzione ai territori. Ecco, portando il welfare alle aziende più piccole, meno strutturate, vogliamo portare in punta di piedi una sensibilità che permetta alle nostre piccole e medie imprese di poter approfittare di una normativa che diversamente non tutti avrebbero la possibilità così fluida di poter beneficiare, migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, creare anche un volano in quegli stessi territori dove portiamo il welfare, perché noi lo chiamiamo ecosistema territoriale. Si crea praticamente un maggiore indotto, una maggiore spesa di beni e servizi su quel territorio che i dipendenti possono spendere. Al limite si possono aprire anche dei convenzionamenti di beni e servizi assistenziali alla persona, sanitari, su quegli stessi territori e per noi questo è un elemento molto importante. Mi fa piacere che lei abbia ricordato il nostro slogan, fare banca per bene, perché effettivamente questa attività è ancillare rispetto all'attività core di UbiBanca, però si presta bene in una banca che vuole fare banca per bene sui propri territori, sulle proprie aziende di riferimento e sui propri dipendenti di riferimento. Inoltre, ci tengo a dirlo, noi siamo partiti a fare welfare con l'autorevolezza di chi l'ha prima sperimentato in casa, perché di fatto noi siamo una banca, un'azienda chiaramente sindacalizzata, abbiamo oltre 20.000 dipendenti, noi stessi abbiamo un premio di produzione che in accordo con le organizzazioni sindacali da qualche anno a questo parte abbiamo dato la possibilità ai nostri dipendenti di poter scegliere se farseli monetizzare in busta paga piuttosto che in beni e servizi. Ebbene, la risposta è stata molto… Quindi date proprio la scelta in questo caso. Certo, la risposta è stata molto positiva ed è per questo che di fronte a questa risposta così positiva abbiamo pensato di poter dare questa opportunità anche alle aziende. Tra l'altro nel solco di Industria 4.0 crediamo che il welfare possa essere anche un'occasione nel mondo imprenditoriale di rivedere le relazioni industriali tra associazioni datoriali e lavoratori. E si inserisce bene questo percorso perché permette agli aziende di innovarsi, di recuperare risorse attraverso il risparmio contributivo e di mettere in condizioni queste risorse recuperate in un aumento della produttività. Quindi si incastra bene anche in questo alveo qui di relazione. Ecco, ha citato più volte le organizzazioni sindacali, immagino che siano tra i vostri interlocutori ma non siano gli unici insomma quando dovete mettere in piedi questo tipo di meccanismo. Certo, diciamo che i nostri interlocutori naturali oltre che tutte le aziende clienti sono sicuramente le associazioni datoriali perché insieme possiamo fare sistema per portare cultura di welfare aziendale presso le aziende del nostro territorio perché ne possano trarre un vantaggio e un miglioramento della produttività. Ma anche penso agli studi professionali dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, di tutti quelli che interagiscono nella filiera nel mondo delle aziende. Questi sono i nostri sicuramente interlocutori. Ubibanca nel marzo del 2017 è partita in via sperimentale nei territori di Brescia e Bergamo, poi progressivamente la rete di specialisti di cui ho il piacere e l'orgoglio di coordinare e di fatto si è stesa in tutto il territorio italiano e a partire da gennaio adesso stiamo coprendo anche la MAT, Lazio Toscana e Umbria, che riconduce al direttore Silvano Manella. La macro area territoriale. Esattamente. Stanno arrivando i primi contratti, quindi con soddisfazione le prime risposte anche del territorio, delle aziende del territorio, siamo soddisfatti di questo abbrivio ma pensiamo che ci sia molto da fare. Allora abbiamo capito che insomma questo tipo di servizio e di come dire anche vicinanza al mondo dell'azienda, al mondo del lavoro è già arrivato anche nel nostro territorio, parlo di quello a retino ma ovviamente in maniera più larga l'area che lei ricordava insomma la macro area territoriale, ma si può scendere un pochino più nello specifico ecco magari facendo anche un piccolo esempio, è vero che la televisione è brevità, è sintesi, però proviamoci e poi magari diamo le indicazioni a chi ci ha ascoltato fino ad adesso su come fare per poter accedere a questo tipo di... Sì, allora relativamente ai caratteri distintivi della nostra offerta, oltre che risottolineare il fatto che noi facciamo altro che mettere a disposizione delle aziende la nostra stessa soluzione di welfare con i nostri stessi convenzionamenti, la nostra stessa piattaforma, un modello che utilizziamo per cui ci è molto familiare e quindi c'è questa autorevolezza, è il fatto che abbiamo creato una rete di specialisti, non abbiamo messo questo prodotto a banco o a libro, è una consulenza evoluta che vogliamo fare anche seguendo il ciclo di vita delle nostre aziende e dei loro dipendenti e per i quali abbiamo preparato dei professionisti che chiavi in mano supportano le aziende nella messa a terra di un piano di welfare. Chiaramente ci sono degli elementi che ci contraddistinguono, uno di questi è la formazione in azienda, andiamo in azienda anche al di fuori dell'orario di lavoro per andare a raccontare i benefici del welfare dipendente, andiamo a fargli toccare con mano quanto è facilmente utilizzabile la piattaforma, come è facilmente spendibile in termini di prodotti, beni e servizi e offriamo una garanzia fiscale che è un altro elemento di tutela molto importante per le aziende, ma lo possiamo fare perché siamo già forti di quello che già offriamo in casa ai nostri 20 mila dipendenti, quindi per le aziende questo è un valore aggiuntivo molto importante, per noi è uno sforzo marginale perché già ci garantiamo di quella che è le necessarie cautele in termini di compliance fiscali. E poi abbiamo creato, proprio perché Ubi ci crede molto, è una sicurezza molto importante che mi fa molto piacere che lei mi ha chiesto di poter sottolineare. E da ultimo ricordo che Ubi Banca ci crede talmente tanto che ha creato una struttura apicale che riconduce al vice direttore generale Rossella Leidi che si chiama Area Welfare Protezione, quindi ha creato proprio una struttura di primo rango nell'organigramma della banca, proprio perché vuole dare una connotazione del fare banca per bene a questo ambito di servizio. Allora, immagino che questo tipo di servizi possano essere richiesti nelle filiali, quindi magari il rapporto umano sia privilegiato, ma per chi volesse intanto dare un po' un'occhiata all'interno del vostro sito ed essere contattati è possibile farlo. Certo, diciamo che se tra gli ascoltatori oggi ci sono degli imprenditori che sono interessati ad approfondire, piuttosto che dei consulenti di lavoro, possono sicuramente rivolgersi alle nostre filiali per avere un primo contatto o diversamente possono anche farlo direttamente nella sezione del sito Ubi Banca, alla sezione Welfare, dove c'è una propria sezione fatti contattare da uno specialista, mandando le proprie credenziali e una piccola mail, li stabiliremo in contatto in tempi molto rapidi. Molto brevi, quindi ognuno sceglierà la strada che più gli rimane comoda, ma insomma oggi la tecnologia fa assolutamente parte del nostro mondo e quindi immagino che il sito vostro sia molto cliccato, questa è una cosa che è facile presumere. Quindi grazie mille a Dugo Borgheresi, responsabile e supporto Welfare di Ubi Banca e con conto su di te ci vediamo come al solito alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.